Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Dietro le facciate digitali e il desiderio di nuove connessioni si nascondono sia profonde vulnerabilità che insidiosi pericoli. Il caso di cui parliamo oggi esplora le oscure dinamiche degli incontri online e le inquietanti conseguenze che possono derivare da appuntamenti in apparenza innocui. Sidney Lofey nasce il 21 agosto 1993 a Broken Bow, nel Nebraska. I suoi genitori si chiamano Susie e George e ha anche un fratello maggiore di nome El Devay e una sorella minore, Mackenzie. Sidney vive a Broken Bow fino ai suoi sette anni, poi la famiglia decide di trasferirsi prima nella città di Arcadia e poi intorno al 2000 di stabilirsi nel Nela, una cittadina situata nel nord-est del Nebraska. Da piccola Sidney ama passare il tempo all'aria aperta, si arrampica sugli alberi, adora adondolarsi sull'altalena e va in slitta durante l'inverno. In estate invece va spesso in piscina e in bicicletta insieme ai suoi fratelli. Inoltre Sidney si unisce sempre alle battute di pesca che organizzano suo padre e suo fratello ed è davvero abile in questa attività. Infatti sua madre racconta che la ragazzina è in grado di prendere molti più pesci rispetto agli altri membri della famiglia, i quali si dedicano alla pesca soprattutto quando vanno in vacanza a Six Falls, nel sud Dakota. Dunque Sidney è una bambina atletica. Alle medie è inserita nella squadra di basket della sua scuola e ama anche il golf, eccellendo in entrambi gli sport. Purtroppo però durante la crescita sviluppa una scoliosi, problema che rende molto dolorosa la sua partecipazione a qualsiasi attività fisica. Così quando raggiunge l'adolescenza Sidney non è più così dinamica. Dal punto di vista affettivo Sidney è molto legata ai suoi fratelli. Durante ogni vigilia di Natale è solita dormire nella stanza di suo fratello Levi, poi a loro si unisce anche Mackenzie, la sorellina minore, non appena cresce un po'. Questa per loro diventa un'irrinunciabile tradizione natalizia. Sidney e Mackenzie passano molto tempo insieme, hanno tanti amici in comune con i quali escono o si riuniscono in casa. Per quanto concerne il suo percorso di studi e lavoro, Sidney si diploma alla Nelly Oakdale High School. Poi inizia a lavorare come cassiera presso Minards, una catena per la ristrutturazione della casa e il bricolage con sede anche a Norfolk, nel Nebraska. Dopo due anni chiede di essere trasferite in un altro punto ventita di Minards, situato a Lincoln, in modo da essere più vicine ai suoi fratelli che hanno traslocato lì. Sidney, suo fratello e sua sorella continuano a essere molto legati tra loro e si frequentano spesso. Mackenzie va a casa di Sidney per guardare i film o le serie di Netflix con lei e preparano la cena insieme. Inoltre Mackenzie la aiuta con le faccende domestiche perché la sorella maggiore non è molto portata, detesta fare le polizie. Sidney può contare anche su suo fratello Levi che la passa a prendere e le dà supporto ogni volta che lei ha problemi con la macchina. La ragazza poi ha un gatto di nome Mimzy da circa 4 anni. Lo adora immensamente e lo ha cresciuto fin da quando era piccolo e anche il micetto le si è tanto affezionato. Purtroppo nonostante sia circondata dall'amore dei suoi cari, dopo il liceo Sidney inizia a soffrire di depressione e ansia e ha difficoltà a trovare un equilibrio mentre assume i farmaci prescritti dai medici che la visitano. Quindi contatta sua madre Susie e le manifesta la sua preoccupazione. Dice che i sintomi della depressione stanno diventando più acuti, dunque vorrebbe cambiare farmaco. Susie si adopera per recarsi a Lincoln e trascorrere un po' di tempo con la figlia. La accompagna dal medico proprio per capire come agire. Sarebbe meglio cambiare farmaco o incrementare la posologia del medicinale che Sidney assume già? Il dottore le rilascia una nuova prescrizione e in poco tempo lei si sente molto meglio. Nonostante queste difficoltà, Sidney resta una ragazza di buon cuore, particolarmente generosa. I suoi genitori ricordano tre occasioni in cui Sidney ha aiutato alcune persone che attraversavano un periodo difficile, permettendo loro di alloggiare a casa sua. Ad esempio ha consentito a una collega di lavoro di stabilirsi nella sua abitazione mentre cercava un appartamento in cui vivere. Finché non ha trovato una dimora adatta a lei, la collega ha potuto mettere da parte i propri soldi contando sull'aiuto di Sidney. Insomma, questa ragazza si preoccupa degli altri anche più di se stessa, ma grazie alla nuova terapia, come detto, si sente meglio. Ha soltanto 24 anni e per la prima volta dopo tanto tempo ha voglia di conoscere persone nuove. A Sidney piacciono le ragazze e navigando sull'app di Tinder si imbatte nella foto di una donna di nome Audrey. Le due iniziano a sentirsi spesso, pare che siano proprio in sintonia. Sidney è felice di questo incontro online e mostra la foto di Audrey anche a una collega di lavoro di nome Brooklyn McChrystal. Il 14 novembre 2017 Sidney ha il suo primo appuntamento con Audrey e la rivede di nuovo già il giorno seguente, il 15, dopo il suo turno di lavoro. L'aver raddoppiato subito l'uscita rende evidente la felicità che Sidney sta provando. È desiderosa di comunicare anche ai suoi cari quanto si trovi bene con Audrey. Infatti dopo il primo incontro ha mandato un messaggio a un amico scrivendogli che era stata in compagnia di una ragazza molto carina. Nonostante l'emozione del momento, Sidney non può dimenticare che in passato ha avuto dei problemi proprio a causa degli incontri nati tramite Tinder. Spesso aveva accettato di uscire con delle ragazze che, poco tempo dopo l'inizio della frequentazione, le proponevano di avere un rapporto a tre, includendo anche il loro fidanzato. Sidney non si era sentita proprio agio di fronte a queste richieste, dunque, al di là dell'entusiasmo, ora vorrebbe procedere con cautela nel rapportarsi con Audrey. Non a caso, in procinto del primo appuntamento, Sidney ha mandato un sms a un'amica esprimendo i propri timori. L'ha scritto, spero che Audrey non abbia un fidanzato. Non gliel'ho chiesto. Poi, prima del secondo appuntamento, Sidney si è fatta coraggio e ha domandato direttamente ad Audrey, sempre tramite Tinder, se anche questa volta sarebbero state da sole. E Audrey ha risposto di sì. Sidney, prima di uscire, ha anche pubblicato un selfie sull'app di Snapchat, accompagnato dalla didascalia, pronta per il mio appuntamento. Sua madre Susie, però, ha visto il post, ne ha fatto uno screenshot e lo ha rimandato alla figlia chiedendole, quale appuntamento? Tuttavia, Sidney non le ha risposto. Ancor più allarmante è che il 16 novembre 2017, quindi il giorno dopo il secondo incontro con Audrey, Sidney non si presenta da Minards per svolgere il suo turno a lei assegnato. I colleghi intuiscono immediatamente che c'è qualcosa che non va. Sidney è una lavoratrice responsabile e non si sarebbe mai assentata senza prima avvisare. Le loro preoccupazioni aumentano quando provano a chiamarla e a scriverle messaggi senza ottenere risposta. Non è da lei sparire così. In preda all'ansia, i colleghi di lavoro contattano i familiari di Sidney e scoprono che la ragazza non sta rispondendo neanche a loro. A questo punto, Susie e George, i suoi genitori, denunciano immediatamente la scomparsa di Sidney alla polizia di Lincoln. Collaborano subito alle ricerche postando sui social delle locandine per avvisare quante più persone possibili. Sidney doveva andare a un appuntamento con una ragazza conosciuta su Tinder. Intanto la polizia accorre all'appartamento di Sidney per esaminare se ci sia qualcosa fuori posto. La sua macchina è parcheggiata nel vialetto, in casa, tutto è apparentemente in ordine, non si evidenziano segni di collutazione. Eppure un elemento destra dei sospetti. Il suo gatto non è stato rifornito né di cibo né di acqua, è chiaro che è rimasto solo durante la notte. E i genitori di Sidney lo sanno bene, lei non avrebbe mai e poi mai lasciato Mimsy a digiuno e disidratato. La polizia controlla tutti i profili social di Sidney e scopre che l'ultimo post pubblicato è il selfie su Snapchat di cui vi ho parlato poco fa. Dunque, il giorno prima la ragazza aveva un appuntamento, stava per uscire con una donna di nome Audrey, come rivela il suo account Tinder. Gli agenti però ancora non conoscono il suo cognome, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di residenza. In ogni caso è allarmante che Sidney non sia mai tornata a casa dopo l'incontro della sera prima. Probabilmente è in pericolo e bisogna individuare nuovi elementi per far decollare le indagini. Intanto Susie, la mamma di Sidney, pubblica un altro stato su Facebook in cui scrive Per favore, continuate a condividere, postare e cercare il post sulla scomparsa di mia figlia. Pregate con me, vogliamo che Sidney torni a casa presto, sana e salva. La polizia è decisa a scoprire chi sia questa Audrey, ma anche la collega di Sidney, Brooklyn McChrystal, non vuole stare con le mani in mano. Intenzionata a scovare Audrey, anche da sola, scarica Tinder, crea un nuovo account usando un nome fasullo e compila tutti i parametri in modo che corrispondano a quelli selezionati da Sidney. Poi inizia a scorrere la lista degli utenti e trova Audrey. E lei ne è certa, perché se ricordate Sidney aveva mostrato alla collega la fotografia di Audrey. Brooklyn quindi le manda dei messaggi, comportandosi come se volesse uscire con lei. Le scrive anche Ehi, odio Tinder, ecco il mio numero di cellulare, mi puoi dare anche il tuo? Così le due si scambiano i contatti telefonici. Una volta ottenuto il numero di Audrey, Brooklyn lo inoltre a tutta la famiglia di Sidney e al dipartimento di polizia. La polizia analizza le informazioni che ha raccolto sul caso, comprese le foto di Sidney, apprendendo che lei non cammina in modo perfetto a causa della sua grave scoliosi. Quanto ad Audrey, il suo vero nome è Bailey Boswell, ha 23 anni e vive con un uomo di 51 anni di nome Aubrey Clifton Trail. La polizia si mette in contatto con Bailey e lei ammette di essere uscita con Sidney, ma afferma di averla poi lasciata a casa di un'amica e di non averla più vista. Gli investigatori però insistono, invitano Bailey ad andare alla stazione di polizia per parlarne meglio con loro, ma lei rifiuta. Il caso sembra complicarsi, così la FBI interviene per dare supporto agli agenti della polizia di Lincoln e per agevolare l'accesso a tutti i dati del cellulare di Sidney, dei suoi tabulati telefonici e del suo account Tinder. Questi dati mostrano che Sidney aveva scambiato dei messaggi sia con Audrey, pseudonimo di Bailey, sia con un'altra persona di nome Joan. Non solo, si evince che Sidney aveva incontrato entrambe. Quanto al suo cellulare, si è collegata a una cella telefonica di una piccola città di nome Wilbur, che si trova a circa 40 miglia sud di Lincoln, sempre nell'Ebraska. Gli agenti riescono infine a rintracciare la sua posizione esatta, localizzando il telefono proprio a casa della 23enne Bailey Boswell. Sia Bailey che Aubrey hanno accumulato numerosi precedenti penali per assegni scoperti, furto di sostanze e truffa. Pare che non abbiano mai commesso un crimine violento, ma la polizia emette un avviso per entrambi, nominandoli come sospettati nel caso di Sidney. Il detective, a capo delle indagini su questo caso, dice durante una conferenza «Dobbiamo parlare con Bailey Boswell e Aubrey Trail. Crediamo che abbiano ulteriori informazioni sul luogo in cui si trova Sidney». Quando i due apprendono che la polizia sta addosso a entrambi, pubblicano sui social media un video per proclamare la loro innocenza. Affermano di sapere di essere dei sospettati, ma non hanno fatto nulla a Sidney. Aubrey, il cinquantenne, dice «Sono un truffatore e un ladro. Lo sono stato per tutta la mia vita, ma non sono la persona che state cercando di farmi sembrare». E continua «Non vogliamo andare in prigione, ma se restiamo qui, saremo accusati di aver fatto qualcosa a qualcuno». In questo stesso video, Bailey ammette di essere uscita due volte con Sidney. Spiega che, sia durante il primo che nel secondo appuntamento, hanno vagato in macchina per Lincoln e si sono fermate a fumare. Dopo aver fatto un giro, il 15 novembre si sono ritirati a casa di Bailey, dove hanno fumato altra sostanza. Infine, Bailey avrebbe accompagnato Sidney a casa di una sua amica. Afferma di averle dato il suo numero di telefono, perché avevano programmato di andare insieme al casino, dove Bailey avrebbe dato a Sidney dei soldi per giocare d'azzardo. Tuttavia, sempre secondo le parole di Bailey, lei, dopo questo secondo appuntamento, Sidney non l'aveva più sentita. Sempre nel video in questione, sia Bailey che Aubrey dicono di sperare che Sidney venga ritrovata presto. La descrivono come una ragazza dolce e straordinaria e concludono affermando che le loro vite sono distrutte a causa delle accuse ingiuste dei media. Dunque, la polizia sta gestendo davvero, ma davvero male questo caso. La polizia, però, non sa esattamente dove si trovano adesso i due sospettati. Questo perché, dopo aver attirato l'attenzione degli agenti, Aubrey e Bailey sono fuggiti dalla loro abitazione e si stanno spostando, cambiando più volte località per evitare di essere catturati. Tuttavia, gli investigatori riescono a ottenere i dati dei loro cellulari e delle carte di credito, con i relativi movimenti. Entrambi i sospettati vengono rintracciati e arrestati in una stanza di un motel a Branson, nel Missouri. La polizia, intanto, li accusa di un reato non collegato alla scomparsa di Sydney. Infatti, Aubrey e Bailey avevano truffato una coppia del Kansas sottraendo le 400 mila dollari dopo averla convinta ad acquistare delle monete d'oro false. I due vengono accusati anche di aver trasportato dei beni rubati attraverso i confini di Stato. Mentre li trattengono nel Missouri, i detective scoprono che i fuggitivi portavano con loro delle borse piene di scarpone da trekking e sacco a pelo. Presumono quindi che avessero intenzione di scappare in Messico. Nel frattempo, la polizia di Lincoln conferma che sono sospettati come responsabili della sparizione di Sydney, per cui vuole assolutamente parlare con loro a proposito di quanto accaduto quella notte. Ormai Sydney è scomparsa da due settimane. La polizia riesce a rintracciare l'ultima posizione di Sydney e nota che, proprio come il suo cellulare, si trovava nell'appartamento di Bailey. Mentre i due sospettati sono ancora in Missouri, la polizia di Lincoln parla con le persone che vivono nelle vicinanze. Scopre che Bailey e Aubrey abitano in quel complesso di appartamenti solo da pochi mesi, cioè da giugno del 2017. I residenti della zona riferiscono che si erano presentati come due antiquari e che sono fidanzati. Sembravano piuttosto tranquilli, non parlavano troppo con i vicini e avevano sempre l'affitto pagato in contanti, talvolta pure diversi mesi in anticipo. Tuttavia, il loro padrone di casa aveva avvertito qualcosa di strano. Tra il 15 e il 16 novembre, l'appartamento dato in affitto ai due, puzzava di candeggina. L'odore era così forte che uno dei vicini aveva vomitato e gli era venuta l'urticaria. Ma le stranezze non finiscono qui. Infatti, il padrone di casa aveva notato anche che Bailey e Aubrey avevano in funzione l'aria condizionata al massimo. L'avevano tenuta accesa per due giorni, il che è strano considerando il mese in questione. Novembre. Infine, il proprietario conferma alla polizia di aver visto una donna sconosciuta entrare nell'appartamento affittato alla coppia il 15 novembre, intorno a mezzanotte. È chiaro che quanto emerge da questi resoconti è inquietante, ma cosa si sa del passato di Bailey e Aubrey? Quanto a Bailey, Boswell era cresciuta a Leon, nell'Iowa, e aveva indubbiamente vissuto un'infanzia tragica. Suo padre era stato assassinato quando lei aveva appena due anni. Nonostante questo, Bailey era una ragazza amichevole, aveva degli amici, a scuola se la cavava ed era brava negli sport. Al termine del liceo, però, aveva iniziato a frequentare delle persone poco raccomandabili e ad usare assiduamente delle sostanze pericolose. Poi era rimasta incinta e aveva sposato un certo Freddy. La madre di Bailey afferma che la relazione tra sua figlia e quest'uomo era violenta, sia emotivamente che fisicamente. Anche lui era dipendente dalle sostanze, infatti presto si era cacciato nei guai. Ben presto, alla coppia, era stata portata via la loro bambina, che era in età scolare. Bailey, a questo punto, era riuscita ad allontanarsi e a separarsi da Freddy, convincendosi che, per stare bene, avrebbe dovuto contattare uno Sugar Daddy, un uomo benestante di una certa età, in cerca di una relazione con una giovane donna con cui condividere la propria economia. Bailey, navigando sul sito web backpage.com, aveva trovato Aubrey Trail. Aubrey aveva già collezionato una lunga fedina penale, infatti il primo reato lo aveva commesso nel 1999. Vi ricordo che Sidney è nata nel 1993, mentre Bailey nel 1994. Quindi, in pratica, quest'uomo aveva iniziato a delinquere quando entrambe le ragazze frequentavano le scuole elementari. Aubrey è un truffatore, è solito sottoscrivere assegni fraudolenti per acquistare merce nei negozi di antiquariato. Gli assegni ovviamente non possono essere incassati, lui intanto ha già preso il bottino per rivenerlo ad altri negozi di antiquariato o su ebay. Si aggira nei negozi di antiquariato di tutto il Midwest. Anche Aubrey aveva vissuto un'infanzia difficile. All'età di due anni aveva subito degli aborti da parte dei suoi genitori. Infatti era stato affidato al nonno. Però purtroppo il nonno era venuto a mancare e Aubrey era stato rimandato a vivere da sua madre dove aveva subito altri aborti esercitati dal patrigno. In seguito era entrato nel sistema di affidamento e aveva bazzicato in diversi centri minorili. Una volta diventato adolescente aveva fatto una rapina a mano armata ed era stato incarcerato in una prigione per adulti. Aubrey Trail per i successivi 30 anni aveva continuato a essere un ladro e un truffatore. Torniamo ora all'indagine della polizia sulla scomparsa di Sidney. Sulla base delle informazioni e degli indizi raccolti i detective riescono a ottenere un mandato di perquisizione per l'appartamento preso in affitto dalla coppia. Appena entrano in casa avvertono immediatamente quell'odore ancora forte di candeggina. È davvero opprimente. Ed è strano che mentre una delle stanze dell'appartamento era stata pulita meticolosamente il resto dell'abitazione versava in condizione di disordine e sporcizia. Gli oggetti sono sparsi alla rinfusa proprio come se Bailey e Obri avessero lasciato l'appartamento in tutta fretta. La polizia inoltre individua un guinzaglio per cani ed è bizzarro perché né Bailey né Obri hanno animali. Gli agenti trovano pure del nastro adesivo e una tuta da sauna con il cavallo tagliato. Ma non è finita qui perché spezionando la casa rinvengono anche delle fascette stringi cavo un'accetta un libro di anatomia e un telo di plastica imbrattato di sangue. Anche se nell'appartamento non emergono ulteriori tracce di sangue gli oggetti trovati lasciano presupporre dei collegamenti con un caso di omicidio. Ecco perché i detective concentrano le successive ricerche nelle aree rurali e negli stagni di Wilbur. Come detto la polizia era riuscita a utilizzare i dati dei cellulari di Bailey e Obri per poi rintracciarli e farli arrestare nel Missouri. Ma questi dati consentono anche di localizzare i loro movimenti il giorno della scomparsa di Sydney. Infatti quel giorno Bailey aveva percorso circa 200 miglia su varie strade sterrate nelle aree rurali della Contea di Clay in Nebraska. Gli investigatori decidono di effettuare delle ricerche anche in queste zone e i loro peggiori timori purtroppo si concretizzano quando il 4 dicembre 2017 notano un fosso vicino a una strada sterrata. Guardando più attentamente all'interno notano un braccio che spunta da un sacco della spazzatura. Recuperano ben 13 sacchi contenenti diversi resti umani del cadavere ma non tutti. Mancano all'appello la parte superiore del braccio sinistro la lingua e vari organi interni come il cuore l'esofago e la maggior parte del polmone sinistro. Trovano anche dei guanti lattici ricoperti di sangue e inviano i resti umani al medico legale affinché esegua l'autopsia che li identifica proprio come appartenenti a Sidney Luffy. Emerge che la causa della morte è lo strangolamento. Il corpo presenta diverse ferite da difesa le quali dimostrano che la vittima aveva provato a ribellarsi al suo aggressore. Riporta dei lividi sulle mani e sui polsi e questo vuol dire che probabilmente era stata legata. Durante gli esami tossicologici si evidenza che Sidney aveva tracce di antidepressivi nel sistema così come piccole quantità di alcol. Il suo corpo era stato smettato con una sega sottile a dentifini e ora la tragica notizia del suo ritrovamento viene diffusa dai notiziari. Il 3 gennaio 2018 Aubrey chiama un giornalista che lavora per il giornale Omaha World Herald dicendogli che ha informazioni su Sidney. Pochi giorni prima dell'udienza per l'accusa di truffa ammette di essere responsabile della morte della 24enne. Spiega alla polizia che lui Sidney e altre due donne tra cui però non c'era Bailey a quanto dice avevano avuto dei rapporti intimi consensuali spinti per intenderci tipo quelli che si vedono nel film 50 sfumature di grigio. Aggiunge che le due donne lo avevano addirittura pagato 150.000 dollari per essere filmate durante l'atto. Aubrey ammette di aver strangolato Sidney durante il rapporto ma racconta che la situazione gli era completamente sfuggita di mano quel gioco estremo era finito male l'aveva uccisa accidentalmente quindi poi era stato assalito dal panico infine aveva deciso di fare a pezzi il suo corpo e di nasconderlo per evitare di finire nei guai Aubrey ribadisce che Bailey non ha assolutamente nulla a che fare con la morte di Sidney lei l'aveva solo aiutata a nascondere il corpo e a lavare quella stanza dell'appartamento con la candeggina quando la polizia interroga Bailey lei conferma di non essere coinvolta dice che era sul divano a dormire mentre Aubrey Sidney e le altre due donne consumavano dei rapporti intimi in camera da letto sostiene anche lei che si fosse trattato di un incidente avvenuto durante un atto consensuale tuttavia la polizia scopre ulteriori prove che dimostrano la falsità di questa avversione dei fatti come già detto Sidney prima del secondo appuntamento con Audrey ovvero Bailey le aveva chiesto tramite un messaggio su Tinder se all'incontro sarebbero state presenti soltanto loro due voleva accertarsi che la ragazza che aveva iniziato a frequentare non avesse un fidanzato pronto a saltare fuori timore che Sidney aveva espresso anche a un'amica in un altro messaggio questo dimostra che Sidney non aveva alcuna intenzione di avere rapporti intimi con nessuno al di fuori di Audrey o meglio al di fuori di Bailey che è il suo vero nome quindi di certo non sarebbe andata a letto con Aubrey un uomo di 51 anni inoltre niente prova che qualcun altro oltre alla coppia e alla vittima si trovasse in quell'appartamento piuttosto le prove dimostrano che Bailey non solo era pienamente coinvolta ma soprattutto che Sidney era stata assassinata e che il suo omicidio era stato premeditato come vi ho già detto la polizia aveva usato i dati del cellulare di Bailey e Aubrey per rilevare i loro movimenti nell'arco temporale in cui si riteneva che Sidney fosse stata uccisa i detective rintracciano anche un video di sorveglianza che inquadra sia Bailey che Aubrey mentre entrano in un deposito locale alle 10.35 del giorno del secondo appuntamento con Sidney il 15 novembre i due sono immortalati mentre acquistano vari oggetti come un seghetto una lama per recidere il cartongesso foglie di plastica e un coltello per tagliare delle scatole sono state ripresi anche al centro commerciale di antiquariato a Hardvac mentre comprano due tritacarne un tagliaerba manuale e una sega pieghevole i registri telefonici localizzano il cellulare di Bailey vicino all'abitazione di Sidney poco prima di mezzogiorno del 15 novembre mentre la vittima era ancora a casa questo dimostra che la stavano seguendo più tardi infatti Aubrey era stato ripreso in un video di sorveglianza nel negozio Minards il punto vendita della catena di bricolage dove lavorava Sidney a North Lincoln il filmato lo mostra mentre le passa accanto quando lei si dirige nel deposito di legname all'esterno Aubrey si ferma un paio di volte a guardarla mentre Sidney è chiaramente completamente ignara della sua esistenza il telefono di Bailey viene rintracciato a Wilbur dove la donna abita e dove appare in un video di sorveglianza di un Dollar General un negozio di varietà nel quale lei acquista sacchetti per la spazzatura della candeggina e del detersivo per il bucato vi aveva fatto ritorno anche il 16 novembre quindi il giorno dopo l'appuntamento con Sidney per comprare altra candeggina e un liquido per la pulizia degli scarichi Bailey era andata pure in un altro negozio per acquistare l'ennesimo flacone di candeggina ulteriori sacchi della spazzatura e un piccolo bidone per i rifiuti Bailey, Boswell e Aubrey Trail vengono quindi estradati in Nebraska e accusati di omicidio di primo grado associazione a delinquere e smaltimento improprio di resti umani Aubrey si dichiara colpevole delle accuse di smaltimento improprio di resti umani ma non colpevole per gli altri capi di imputazione Bailey invece si dichiara non colpevole di tutte le accuse i due vengono sottoposti a due processi separati e l'accusa in entrambi i casi prende in considerazione la pena di morte sebbene Bailey presenti una mozione per escludere la pena capitale affermando che Sidney fosse deceduta a causa di un incidente la richiesta però viene respinta il processo per Aubrey Trail inizia nel giugno del 2019 e l'uomo entra in aula con una sedia a rotelle l'accusa sostiene che lui e Bailey avevano pianificato questo omicidio per settimane avevano attirato Sidney nel loro appartamento con l'intenzione di reclutarla nella loro setta in cui praticavano rituali esoterici e intime il delitto era quindi premeditato e intenzionale la difesa al contrario afferma che Sidney aveva partecipato volontariamente agli atti intimi e pericolosi sia con Bailey che con Aubrey ed era accidentalmente morta l'accusa ribatte presentando alla corte tutte le prove digitali e i video di sorveglianza di cui abbiamo parlato ritiene che Sidney è stata strangolata con una corda come evidenziano i segni trovati sui suoi resti oltre a un filo elettrico rinvenuto nell'appartamento dei due imputati la polizia aveva poi individuato anche un guanto in lattice e un paio di pantaloni di un pigiama nell'appartamento dell'imputato e della compagna entrambi gli oggetti guardate un po' erano macchiati di sangue e corrispondono al DNA di Sidney l'accusa chiama al banco tre testimoni sono tutte donne che hanno avuto delle esperienze negative sia con Bailey che con Aubrey e che decidono di mantenere segreta la loro identità tutte e tre sono poco più che ventenni avevano conosciuto Bailey tramite Tinder ma dopo il primo incontro lei si era presentata ai successivi appuntamenti con Aubrey dicendo che era il suo sugardetti e il suo fidanzato affermano che Aubrey aveva elargito loro dei soldi per la manicure dei vestiti costose ed eleganti dei cellulari e pure delle sostanze inoltre il paparino dava a tutte e tre una paga settimanale di 150 barra 200 dollari in cambio di queste offerte loro avevano dovuto prestarsi poi dei rapporti intimi di gruppo sia con Aubrey che con Bailey dovevano anche aiutare Aubrey a realizzare le sue truffe che coinvolgevano la vendita e il furto di oggetti d'antiquariato tuttavia col passare del tempo le dinamiche di queste relazioni si sono complicate parecchio in quanto a queste donne non era permesso di interagire con altri uomini dovevano chiedere il permesso per fare qualsiasi cosa venivano manipolate e intimidite in alcuni momenti venivano anche chiuse a chiave all'interno della casa della coppia o in diverse stanze di motel e per lunghi periodi di tempo nelle occasioni in cui queste donne riuscivano ad allontanarsi erano obbligate a contattare via telefono il leader della setta e la sua compagna ogni tre ore se avessero disobbedito i loro comandi e si fossero comportate in modo inappropriato sarebbero state punite non avrebbero più potuto indossare i loro bei vestiti o peggio sarebbero state frustate le tre testimoni affermano anche che quando partecipavano ai giochi intimi a Bailey piaceva infliggere il loro dolore inoltre dovevano chiamare Aubrey Papi e Bailey Mami sia Aubrey che Bailey avevano esplicitato più volte il loro desiderio di tornare e uccidere qualcuno Aubrey addirittura si descriveva come un vampiro e chiamava le donne appartenenti alla setta le sue streghe il leader affermava persino di avere dei poteri soprannaturali e diceva che tutte le sue donne avrebbero dovuto partecipare all'uccisione di qualcuno con lui affinché potessero diventare delle vere streghe e acquisire dei grandi poteri ma quali poteri? Beh secondo Aubrey sarebbero riuscite a volare e a leggere nel pensiero di qualsiasi persona Bailey aveva già dei poteri soprannaturali di tipo curativo Aubrey infatti la definiva la sua strega regina insomma queste tre donne sentivano spesso la coppia che parlava del brutale desiderio di smerare un corpo di rompere le dita a qualcuno una per una come forma di tortura una delle testimoni afferma che Bailey e Aubrey intendevano filmarsi mentre si viziavano e uccidevano qualcuno per poi vendere il video alla cifra di un milione di dollari che avrebbero condiviso equamente tra loro queste giovani ragazze riferiscono che sebbene Aubrey e Bailey avessero discusso di ammazzare e torturare qualcuno loro non pensavano che l'avrebbero fatto davvero perché non li avevano mai visti fare del male a nessuno all'inizio di novembre del 2017 ugualmente preoccupate le tre donne avevano espresso il desiderio di lasciare la setta due di loro si erano già allontanate mentre la terza era in procinto di farlo dopo la perdita di due seguaci Bailey aveva cercato di attirare altre persone tra cui Sidney nella piccola setta una delle testimoni racconta che dopo l'omicidio di Sidney non ricorda se il 18 o il 19 novembre Bailey l'aveva chiamata per chiederle di andare al casino insieme a lei la donna aveva accettato e con Bailey c'era anche Aubrey ma in realtà non erano andati al casino piuttosto si erano fermati in diversi motel la coppia aveva detto di dover concludere degli affari per la vendita di sostanze in macchina però sia Aubrey che Bailey parlavano di andare a Kearney per trovare una vittima da uccidere e torturare una che non sarebbe mancata a nessuno i due assassini infatti sapevano di aver commesso un errore attirando una ragazza come Sydney la quale aveva una famiglia amorevole e unita che la stava cercando ostinatamente la donna in questione testimonia che Aubrey aveva detto che voleva vedere sia lei che Bailey mentre partecipavano all'omicidio di questa vittima in difesa la ragazza ex membro della setta chiaramente non voleva aderire a questo piano diabolico ma si era sentita costretta ad assecondare il discorso quindi si erano registrati tutti e tre in un motel a Kearney ma poi la testimonia aveva notato guardando sul telefono di Bailey che la polizia di Lincoln stava cercando di contattarla Bailey allora le aveva spiegato che lei e il compagno stavano subendo delle molte da parte della polizia ingiustamente accusate della scomparsa di una giovane donna è a questo punto che la testimonia aveva iniziato a spaventarsi sul serio intuendo che Aubrey e Bailey erano davvero capaci di commettere un atroce delitto così era riuscita a lasciare il motel e a tornare a casa propria a Omaha senza contattare i due colpevoli mai più durante tutte queste deposizioni Aubrey rimane tranquillo ma quando l'ultimo testimone si alza e si allontana l'imputato urla Bailey è innocente vi maledico tutti per poi tagliarsi la gola con un oggetto affilato che era riuscito a procurarsi così cade dalla sedia a rotelle diventa pallido ha gli occhi chiusi e non si muove intanto viene chiamato il personale di emergenza che lo soccorre e porta subito in ospedale un paio di giorni dopo Aubrey è pronto per tornare in tribunale il processo ricomincia l'imputato ritratta tutte le sue dichiarazioni precedenti ammette che non c'era nessun video da registrare nessuna fantasia intima da secondare e nessun'altra persona in camera con lui quando Sidney è morta in precedenza come ricorderete aveva già affermato di averla uccisa accidentalmente sì usava le persone per ottenere soldi i rapporti intimi ma uccidere qualcuno intenzionalmente sarebbe stato controproducente gli agenti dell'fbi però lo smentiscono testimoniano di aver scoperto che mentre Aubrey e Bailey erano in prigione in attesa del processo erano riusciti a scambiarsi delle note assicurandosi che tutte le loro storie corrispondessero questo significa che mentono se fossero stati innocenti non avrebbero avuto alcun bisogno di accordarsi per raccontare la stessa versione dei fatti il processo dura tre settimane e in questo periodo Aubrey subisce due attacchi di cuore e un ictus mentre aspetta l'esito nella sua cella il che indica quanto sia stressato e preoccupato dopo l'ultima udienza in meno di tre ore la giuria finisce di deliberare e dichiara Aubrey Trail colpevole di omicidio di primo grado e associazione a delinquere finalizzata a commettere un omicidio Aubrey prova a fare appello e chiede un altro processo ma il giudice glielo nega la sua udienza di condanne è prevista per il giugno del 2021 e in questa circostanza Aubrey presenta un'altra versione dei fatti relativi all'omicidio di Sidney legge alla corte una dichiarazione in cui ammette di averla uccisa di proposito ma sostiene che il delitto non era premeditato afferma che Bailey l'aveva portata nel loro appartamento perché entrambi volevano reclutarla nella setta tuttavia avevano completamente sbagliato valutazione su di lei infatti una volta che Sidney aveva scoperto quali erano le loro intenzioni era andata completamente fuori di testa Aubrey spiega che aveva provato per 30 minuti a calmarla senza riuscirci temeva che sarebbe andata dalla polizia e avrebbe raccontato tutti i loro piani criminali per fare soldi tutti i modi in cui si assicuravano rapporti intimi di gruppo e tutte le altre situazioni losche in cui erano coinvolti Aubrey afferma che voleva tutelare la sua bella vita con Bailey e che questo implicava di non lasciare libera Sidney ecco il motivo per cui l'aveva uccisa voleva proteggere i suoi segreti l'aveva quindi strangolata con un cavo elettrico per poi smembrare il suo corpo in modo che fosse più facile sbarazzarsene i poveri genitori di Sidney sono presenti a quest'udienza e Aubrey si rivolge a loro dicendo non posso dire che mi dispiace perché sarebbe un insulto per quello che vi ho fatto passare ho fatto delle cose terribili nella mia vita ma questa è l'unica di cui mi pento il giudice emette per Aubrey una sentenza di condanna a morte tramite iniezione letale gli vengono anche inflitti ulteriori 50 anni di pena per l'accusa di associazione a delinquere e altri due anni per lo smaltimento improprio dei resti umani il giudice afferma che anche se Aubrey aveva vissuto un'infanzia dura se era cresciuto faticosamente nel sistema di affidamento se era stato il riformatorio più volte e se era povero la depravazione di questo crimine supera tutte queste circostanze attenuanti parliamo ora del processo di Bailey Boswell la difesa sostiene che era stata costretta da Aubrey a partecipare all'omicidio di Sidney spiega che la ragazza aveva alle spalle una storia di acusi fisici e intimi e questo l'aveva resa la vittima perfetta di cui un uomo molto più grande si approfittava l'accusa d'altro canto continua a ritenere che l'intera faccenda era stata pianificata da entrambi gran parte delle prove presentate in questo processo sono già state esaminate durante il dibattimento di Aubrey ma vi sono anche ulteriori prove genetiche che dimostrano che il DNA di Bailey si trovava su un guanto in lattice rinvenuto vicino ai resti di Sidney durante tutte le udienze Bailey appare sconvolta scoppia in lacrime mentre si discute del ritrovamento del cadavere smembrato di Sidney molte persone affermano che questo comportamento non dimostra affatto che si sia pentita bensì lascerebbe emergere che l'imputata è arrabbiata con se stessa per essersi fatta beccare dopo tre ore e mezza di deliberazione la giuria giudica Bailey Boswell colpevole di tutti i capi d'accusa mentre le viene letto il verdetto lei non mostra alcuna emozione la sua udienza di condanna si tiene a luglio del 2021 e l'accusa chiede che venga condannata a morte Bailey allora inizia a piangere implora che le venga risparmiata la vita perché è una figlia di sette anni che ha bisogno di lei stiamo parlando di quella bambina che le era stata portata via anni prima e che non aveva più visto da allora comunque il giudice decide di condannare Bailey all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e non alla pena di morte una scelta che sconvolge i genitori di Sidney i quali credono che se la figlia non fosse stata adescata da Bailey sarebbe ancora in vita dunque a loro avviso è altrettanto colpevole se non di più di Aubrey Bailey Boswell è tuttora in prigione rinchiusa nel penitenziario femminile del Nebraska mentre Aubrey si trova nel braccio della morte nel penitenziario statale dite come se spendiamo le ultime parole per ricordare la vittima di questo caso Sidney Luffy una ragazza di 24 anni davvero speciale gentile altruista ben disposta a mettere gli altri davanti alle sue necessità era convinta anzi entusiasta di andare a un appuntamento con una brava ragazza conosciuta su Tinder ma questo incontro si è rivelato letale lo so molti di voi potrebbero commentare scrivendo che non è sicuro uscire con una persona sconosciuta incontrata online e io capirei le vostre osservazioni ma di certo non è giusto incolpare Sidney per ciò che le è successo lei era in buona fede e non poteva immaginare di trovarsi davanti degli individui ferocemente assettati di omicidio Sidney d'altronde ha fatto quello che moltissimi altri ragazzi e ragazze fanno quotidianamente gli incontri online fanno parte della nostra realtà i giovani hanno un'identità virtuale consolidata i social permettono di conoscere tante persone di fare amicizia anche con quelle che non riusciremmo a intercettare nella vita reale e grazie alle app di incontri sono nati anche dei grandi amori ma purtroppo c'è il rischio effettivo che la verità celata dietro uno smartphone venga alterata dagli utenti che appunto fingono di essere ciò che non sono tra le altre problematiche in cui ci si può imbattere sul web c'è il doxing che consiste nella diffusione online di informazioni private o lo shaming che si verifica quando vengono fatti degli screenshot alle chat o ai profili di alcuni utenti allo scopo di attaccarli offenderli o molestarli con questo voglio dire che è sempre fondamentale stare attenti mentre si utilizzano le app per socializzare bisogna ricorrere ai modi più sicuri per farlo sfruttandone solo i vantaggi senza agire inconsapevolmente abbassando la guardia prima di incontrare una persona sconosciuta è sempre prudente comunicare alla famiglia o a qualcuno di fiducia alcuni dettagli dell'incontro come il luogo in cui si svolgerà meglio che sia pubblico e poco isolato così in caso di segnali sospetti percepiti sarà più facile interrompere l'appuntamento e allontanarsi questo ci porta alla fine di questo caso credo che sia un caso terribile e quello che ne è uscito fuori dopo del papi vampiro è davvero assurdo il papi vampiro e le sue streghe allora nonostante il finale che vi ho detto credo che ci siano alcuni casi in cui non è possibile essere sicuri al 100% di essere al sicuro uscendo con una persona conosciuta su internet quindi l'unica cosa che vi posso dire è fate attenzione tenete gli occhi aperti specialmente se siete giovani fate all'occhio avvisate sempre qualcuno appunto di fiducia sentite la vostra famiglia sentite i vostri amici condividete la vostra posizione magari mentre state andando all'appuntamento mentre state tornando dall'appuntamento insomma cercate di proteggervi purtroppo le sfortune le cose brutte capitano anche alle persone più attente questo però non vuol dire che dobbiamo prendere le cose sotto gamba detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso io non lo conoscevo fatemi sapere se voi invece lo conoscevate già e scrivetemi tutto quello che vi sentite nei commenti fatemi sapere che emozioni vi ha suscitato sto caso che cosa avete pensato mentre ascoltavate questo caso io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.